Grazie a tutti. I testi che ora saranno letti sono cavati da fonti contemporanee agli avvenimenti, si tratta di un brano piuttosto ampio dell'oratore Lissia contro Eratostene, uno dei trenta che governarono ad Atene per alcuni mesi tra il 404 e il 30. Il settembre del 403 d.C. è un violento atto d'accusa, è curioso forse, ma spiegheremo come mai questo accada, che l'orazione sia rivolta contro Eratostene e invece poi il brano abbastanza ampio che leggeremo sia rivolto contro un morto, contro una persona che è stata uccisa qualche mese prima, cioè Teramene. Anche egli uno dei trenta in realtà. Questo è il primo brano. Lissia ha una ragione personale molto forte per portare in tribunale Eratostene. Non sappiamo come è andato il processo, abbiamo questo atto d'accusa molto articolato e molto appassionato e direi nel raccontare la vicenda di Teramene ricostruisce la storia, molto in breve, la storia delle due oligarchie. Quindi una fonte contemporanea molto interessata, molto di parte. L'altro brano è anch'esso un brano oratorio, si trova dentro la storia greca di Senofonte, le Elleniche, in particolare in quei capitoli densi, molto interessanti anche sul piano narrativo, che Senofonte ha dedicato al governo dei trenta. Perché è un brano oratorio? Perché Senofonte mette in scena uno scontro, uno scontro molto aspro, tra Teramene e Medesimo, ancora vivo in quel momento, e Crizia, il leader in certo senso, di questo governo ultra oligarchico. Che regge le sorti di Atene per alcuni mesi dopo la sconfitta militare. Dopo avremo sentito le due letture, io cercherò di dare delle informazioni tali, da rendere più chiaro il quadro. Però, ecco, mi premeva di dire questo preliminarmente per rendere chiara la comprensione di questi due brani oratori. Quello in particolare che abbiamo scelto da Senofonte e Elleniche è l'atto di accusa, una parte dell'atto di accusa, che Crizia rivolge contro Teramene. È una lacerazione all'interno del governo dei trenta, Teramene uscirà soccombente da questo scontro. Probabilmente, ma questo poi lo diremo meglio tra breve, non si tratta di una stenografia, però è una resa molto vicina alla realtà che possiamo immaginare. E' un discorso che Senofonte ha curato molto ravvicinatamente, nel quale sono sviluppati gli argomenti che molto probabilmente Crizia ha effettivamente svolto, attaccando il suo avversario. Do quindi subito la parola alla nostra voce narrante e poi la riprendo io stesso. Grazie. Ed ora, nel modo più breve possibile, vi ragguaglierò anche sul conto di Teramene. Vi prego, dell'interesse mio e dello Stato, di ascoltarmi. Non venga in mente a nessuno che il processo è contro Eratostene. La mia requisitoria è contro Teramene. Sono venuto infatti a sapere che Eratostene addurrà a sua difesa l'essergli Stato amico, l'aver seguito la sua politica. Certo, non la smetterebbe di vantarsi, credo, se fosse stato al governo Conte Mistocle d'aver contribuito ad edificare le mura dal momento che si gloria ad averle abbattute con Teramene. Tuttavia, mi sembrano due personaggi di merito diverso. L'uno costruì le mura contro la volontà degli spartani, l'altro le ha demolite mediante il raggiro dei suoi concittadini. Ad Atene toccò pertanto l'opposto di quanto era da aspettarsi. Era giusto che anche gli amici di Teramene perissero, salvo coloro, se ve ne furono, che lo avversarono. Invece mi accorgo che la difesa ripiega su di lui, che i suoi seguaci avanzano pretese di merito, quasi fosse stato causa di una serie di benefici, non di gravi danni. Intanto, fu il principale responsabile della prima oligarchia, per avervi persuaso ad adottare il regime dei Quattrocento. Suo padre, uno dei probuli, operava nello stesso senso, mentre il figlio, considerato un partigiano convinto del governo, fu scelto dagli oligarchi come stratego. E finché era in auge, si comportò lealmente. Appena si accorse che Pisandro, Callescro ed altri lo sopravvanzavano e che il popolo ne aveva abbastanza di loro, Allora, sia per invidia nei riguardi dei rivali, sia per timore del popolo, collaborò con Aristocrate. Volendo apparire un puro della democrazia, accusò e fece condannare a morte i suoi intimi, Antifonte e Archeptolemo, spingendosi a tanta bassezza, da aver reso prima voi schiavi per acquistare credito presso i Quattrocento, da condurre poi all'estrema rovina gli amici per carpire la vostra fiducia. Carico di onori ed elevato ai più alti uffici, si prese l'incarico di salvare la città e fu proprio lui a perderla. Lui che diceva di aver trovato una soluzione eccellente e straordinaria. Promise di concludere la pace senza concedere ostaggi, senza battere le mura né consegnare le navi. Non volle però svelare il segreto a nessuno e pretese che ci si rimettesse a lui. Voi, o Atenesi, mentre la re Opago studiava una via di salvezza, sebbene molti si levassero a parlare contro Teramene, e voi, pur sapendo che gli altri tengono il segreto solo per i nemici, mentre egli intendeva tacere ai suoi concittadini quanto avrebbe detto ai nemici, ciò nonostante gli affidastre patria, figli, spose e voi stessi, non mantenne nessuna delle sue promesse. Era così convinto che bisognava abbassare di indebolire la città da indurvi ad accettare condizioni che mai avevano preteso i nemici, mai sospettato i cittadini. E non dietro costrizione degli spartani, ma suggerendo proprio lui ad essi di radere al suolo le mura del Pireo e di abolire la Costituzione in vigore. Si immaginava troppo bene che se non vi avesse tolto ogni speranza avreste tratto di lui pronta vendetta. Infine, o giudici, non permise che si riunisse l'Assemblea prima di aver atteso con cura il momento fissato da loro e di aver fatto venire da Samo la flotta di Lisandro e prima che fosse entrato in città l'esercito nemico. Solo allora, in tale situazione, alla presenza di Lisandro, di Filocare, di Milziade, radunarono l'Assemblea per il dibattito costituzionale. Così nessun oratore poteva opporsi ad essi, né intimorirli con minacce. E voi, invece di decidere secondo l'interesse pubblico, avreste votato secondo il loro punto di vista. Levatosi, Terramene vi invitò ad affidare lo Stato a trenta uomini e ad adottare il progetto di governo esposto da Dracontide. Malgrado le difficoltà della vostra situazione, tuttavia insorgeste, tumultuando a rifiutarvi. In quel giorno, lo comprendevate bene, si deliberava di schiavitù o di libertà. Terramene, o giudici, mi appello in ciò alla vostra testimonianza, dichiarò allora che non gli interessava affatto la vostra protesta, poiché sapeva di avere molti atteniesi dalla sua parte e che il suo era il punto di vista di Lisandro e degli spartani. Dopo di lui, Lisandro, alzatosi, disse, tra l'altro, che riteneva violati da voi gli accordi e che non si sarebbe più discusso di forma di governo, ma di salvezza, a non dar retta a Terramene. Gli uomini onesti dell'Assemblea, consci della manovra e del caso di forza maggiore, gli uni rimasero là a freddi e passivi, gli altri si ritirarono con la certezza, almeno, di non aver nulla votato di nefasto alla città. Un numero esiguo di furfanti e di malintenzionati approvò per alzata di mano le misure imposte. Si comandò loro di eleggere dieci persone dietro indicazioni di Terramene, dieci persone dietro ordine degli efori in carica e dieci fra i presenti. Tanto bene vedevano la vostra impotenza e misuravano la propria forza da conoscere già prima quanto sarebbe accaduto nell'Assemblea. E non dovete prestar fede a me in questa faccenda, bensì a Terramene. Io ho riferito appunto le cose da lui esposte a propria difesa dinnanzi al Consiglio. Rinfacciava agli oligarchi banditi di essere rientrati per merito suo e non per una preoccupazione degli spartani. Rinfacciava ai colleghi di governo che tutti i risultati ottenuti nel modo in cui io vi ho raccontato li dovevano a lui. Ed ecco la bella ricompensa, dopo le molte prove tangibili di fedeltà, malgrado il vincolo dei loro giuramenti. E avranno il coraggio di dichiararsi amici di un uomo responsabile di questi e altri misfatti e vergogne, antiche e recenti, piccole e grandi, mentre non per causa vostra è finito Terramene, ma per la propria malvagità, giustamente pagando il fio sotto l'oligarchia che già cercava di abbattere come giustamente l'avrebbe pagato sotto la democrazia, perché due volte vi ha asservito. Lui mai contento del presente, lui smagnoso di novità, lui che con in bocca il nome più bello si era fatto maestro di opere abominevoli. Sono stati lanciati addosso agli ascoltatori un sacco di nomi propri, circostanze, io mi rendo conto che non tutte possono essere immediatamente classificate nella loro giusta significanza. La premessa, Terramene è stato liquidato fisicamente perché Crizia lo ha messo sotto accusa per una sua presa di distanze dal governo oligarchico e quindi è stato ucciso sul posto in maniera feroce, martire, complice all'inizio dell'oligarchia, poi martire. Eratostene cerca di salvarsi dal processo di cui poi dirò meglio dicendo ma io ero amico di Terramene e gli sembra che questo possa essere un modo per salvarsi. Ora che è restaurata la democrazia si procede ad alcuni processi sostanzialmente politici. Ecco perché lì si assente il bisogno di ritrarre in maniera così violenta, così polemica, Terramene e gli addebita tutta una serie di colpe, una serie di responsabilità a partire dalla precedente esperienza oligarchica. In sostanza vuole annullare l'argomento più forte che Eratostene userà a proprio vantaggio. Ora invece sentiremo l'atto d'accusa che Crizia ha scaraventato contro Terramene nel momento in cui si è prodotto lo scontro tra i due. Quando anche Terramene fu presente, Crizia si alzò e tenne il seguente discorso. Buleuti, se qualcuno di voi è convinto che le nostre esecuzioni hanno superato la misura, considere che questo è normale ovunque avvengano mutamenti costituzionali. È inevitabile che qui gli avversari dell'oghegarchia siano molto più numerosi perché la nostra città è la più popolosa della Grecia e per la lunga abitudine del popolo ha la libertà. Noi sappiamo come la democrazia sia per gente come noi e come voi un regime odioso. Sappiamo anche che il popolo non offrirà mai la sua amicizia a Sparta, nostra salvatrice, mentre i migliori continueranno ad essere leali. Per questo ordine di motivi, d'intesa con Sparta, abbiamo imposto l'attuale Costituzione. E se ci rendiamo conto che qualcuno si oppone all'oligarchia, per quanto ha il nostro potere, ce ne sbarazziamo. Ma ci sembra molto più legittimo, se è uno di noi a violare l'ordinamento costituito, a fargli scontare la pena. Ora, constatiamo che proprio Teramene cerca di rovinare con tutti i mezzi possibili noi e voi. A conferma che questa sia la verità, troverete, se vi fate attenzione, che nessuno più di questo Teramene critica la situazione presente o fa opposizione tutte le volte che vogliamo liberarci di qualche demagogo. Se fin dall'inizio avesse manifestato questo atteggiamento, sarebbe stato un nemico. Tuttavia non poteva legittimamente essere considerato un malvagio. Invece, dopo essere stato il promotore dell'intesa e dell'amicizia con Sparta, nonché dell'abbattimento della democrazia, e avervi in modo particolare indotto a punire quelli che inizialmente erano portati in giudizio davanti a voi, ora, poiché sia voi che noi siamo divenuti nemici palesi del popolo, non approva più ciò che accade per mettersi di nuovo al sicuro. Noi, invece, dovremmo scontare di persona la pena di ciò che è accaduto. Sicché conviene che sia punito non solo come nemico, ma anche come traditore vostro e nostro, in quanto con i nemici gli uomini stipulano trattati e tornano ad essere amici, mentre con colui che considera un traditore nessuno stringerebbe mai accorti, né gli concederebbe fiducia per il futuro. Perché sappiate che costui non fa nulla di nuovo, ma che è un traditore per natura, vi ricorderò le sue azioni passate. Costui, inizialmente stimato dal popolo grazie al padre Agnone, divenne il più determinato a trasformare la democrazia nel regime dei Quattrocento e ne divenne uno dei primi esponenti. Quando però si rese conto che si stava realizzando una certa opposizione all'allogarchia, fu il primo a diventare capo del popolo contro di essi. Di qui gli dereva il soprannome di Coturno. Infatti il Coturno sembra adattarsi a entrambi i piedi. Materamene. Occorre che un uomo degno di vivere non si mostri capace di guidare i compagni nelle situazioni critiche per ritirarsi subito indietro se sorge qualche difficoltà. Ma come su una nave, faticare finché non sorge il vento favorevole. In caso contrario, come potrebbero arrivare dove devono se al sorgere di qualche ostacolo subito invertissero la rotta? I rivolgimenti costituzionali comportano sempre delle vittime. Ma tu, per la facilità con cui cambi opinione, sei corresponsabile dell'uccisione di moltissimi uomini tra gli oligarchi per mano del popolo, come pure di un numero altissimo tra quelli della democrazia da parte dei migliori. Egli è colui che, incaricato dagli strateghi di recuperare i naufraghi nella battaglia navale delle acque di Lesbo, non solo non li recuperò, ma accusò gli strateghi mandandoli alla morte per salvarsi la vita. Colui che si mostra in ogni circostanza preoccupato del proprio vantaggio personale, senza preoccuparsi del giusto e degli amici, come bisognerebbe risparmiarlo? Come non prendere delle precauzioni conoscendo i suoi mutamenti, perché non possa comportarsi allo stesso modo con noi? Pertanto, noi lo sottoponiamo al vostro giudizio, perché cospira contro di noi e tradisce sia noi che voi. Quanto al fatto che agiamo fondatamente, ponete attenzione anche a queste considerazioni. La Costituzione spartana risulta essere la più perfetta. Se a Sparta un eforo, anziché rispettare le decisioni della maggioranza, si desse a criticare il governo e facesse ostruzionismo, non presumete che gli efori stessi e la città intera lo riterrebbero meritevole del massimo della pena? Voi, dunque, se siete saggi, dovete risparmiare non costui, ma voi stessi, perché la sua salvezza accrescerebbe l'audacia di coloro che vi sono contrari, mentre da morto distruggerebbe le speranze di tutti, sia nella città che fuori. Abbiamo ascoltato due testi particolarmente drammatici e ora il mio compito è di cercare di spiegare un pochino meglio le circostanze e risalire indietro nella vicenda. Ho già detto prima del motivo per cui Teramene si trova in questa posizione ambigua di essere da morto usato come vittima, come martire della democrazia e da vivo come persecutore del regime democratico, insidiatore del regime democratico. Ma tutto questo forse è ancora abbastanza vago. La crisi che Atene attraversa nell'ultimo periodo della guerra è una crisi lenta, una crisi che serpeggia, che esplode e poi riesplode. Come dire, Atene entra in un conflitto per volontà del suo maggiore statista del V secolo, cioè Pericle, nell'anno 431 a.C., nella convinzione che sarà un conflitto lungo ma inevitabilmente vittorioso. La strategia di Pericle è una strategia di logoramento. Pericle muore poco dopo l'inizio della guerra nel grande contagio pestilenziale che flagella Atene già subito dopo l'inizio del conflitto e però, nonostante il cliché per cui sembra quasi non avere avuto eredi, eredi ne ha avuti che hanno proseguito la sua politica. Cleone, bersaglio di Aristofane è in realtà Pericleo. Tucidide che non lo ama affatto mentre adora Pericle gli fa pronunciare delle parole che sono le parole di Pericle. Quindi è un mito erroneo quello secondo cui i successori di Pericle non furono all'altezza. hanno proseguito la sua politica che è una politica di logoramento dell'avversario. Noi abbiamo Lemura Atene che è uno stato regionale dire città-stato è un po' una sciocchezza è uno stato regionale tutta l'attica è Atene ha una difesa formidabile un sistema difensivo creato da Temistocle cioè le mura le grandi mura che fanno di Atene una fortezza un'unica fortezza comprende l'agglomerato urbano centrale e il Pireo il porto del Pireo legate dalle cosiddette gambe le lunghe mura che congiungono la città al Pireo quindi è una fortezza gli spartani potranno invadere l'attica saccheggiare le campagne ammazzare il bestiame terrorizzare i contadini alla fine si dovranno ritirare invece la flotta l'ateniese onnipotente alla fine avrà ragione dell'avversario attaccandolo nel suo territorio questa è la strategia strategia che in realtà logora bensì l'avversario ma logora anche Atene la pace dopo dieci anni di conflitto la cosiddetta pace di Nisha che prende nome dal dal politico e ricchissimo Nisha appaltatore di miniere del Laurion l'uomo forse più ricco di Atene al tempo suo la pace di Nisha dopo dieci anni nel ventuno è importantissima dal punto di vista politico e militare e diplomatico perché nell'atto formale che noi abbiamo il Tuccidide lo trascrive per intero di quella pace viene riconosciuta l'esistenza e la legittimità dell'impero atenese impero formatosi dopo la fine della seconda guerra persiana è mai riconosciuto ufficialmente dagli spartani il primo atto formale che riconosce l'esistenza di una realtà che si chiama Atene e gli alleati cioè la lega di fatto l'impero e la pace di Nisha Machiavelli cita ad un certo punto dei discorsi sulla prima decada di Tito Livio questa vicenda dicendo capitolo geniale che Atene aveva vinto la guerra Machiavelli non leggeva il greco leggeva Tuccidide sicuramente in traduzioni latine forse quella di Valla e ha capito l'essenziale cioè ha capito l'importanza enorme di quella pace che viene svilita di solito come pace di compromesso pace incerta come Tuccidide stesso la definisce un certo passo invece è importante perché sancisce che non esiste più soltanto una lega panellenica egemonizzata da Sparta ma esiste un'altra realtà formale che è l'impero di Atene impero violento impero fondato sulla repressione degli alleati che defezionano fondato sulla imposizione del regime democratico cioè del dominio popolare in tutti gli stati alleati di Atene e se per caso c'è un sovvertimento politico Atene interviene con la sua flotta e impone il governo popolare Sparta accetta questo nel momento in cui si firma la pace di Nice quindi è un grande successo e la guerra è finita noi però giustamente sulla scia della interpretazione Tuccididea parliamo di un unico conflitto durato 27 anni che va avanti fino alla capitolazione di Atene nell'aprile del 404 è una visione accettabile e anche profonda in certo senso ma sicuramente non vera sul piano diplomatico se noi leggiamo altri autori diversi da Tuccidide gli oratori Attici Platone nel Menesse ci rendiamo conto che per i contemporanei la guerra è finita allora e poi ne è cominciata un'altra non contro Sparta ma una guerra di aggressione contro Siracusa a Occidente era un vecchio disegno di Pericle quello di colpire a Occidente la Grecità occidentale era caratterizzata dalla grande potenza siracusana e la Sicilia a sua volta era dilaniata da un conflitto fra i Greci e i Punici cartaginesi dilaniata da conflitti di potenza locale la scelta di Pericle di guardare a Occidente non ebbe attuazione Pericle fu invece responsabile di un errore colossale cioè tentare l'avventura in Egitto al momento in cui l'Egitto insorse contro l'impero persiano fu un disastro dal punto di vista militare in certo senso pari al disastro dell'impresa contro Siracusa voluta da suo nipote Alcibiade Alcibiade è un personaggio ingombrante si potrebbe dire che il suo tentativo di essere il nuovo Pericle è legato a tanti fattori ma anche psicologici potremmo pensare in ogni caso è la figura dominante in opposizione all'artefice della pace cioè Nicia già subito dopo il 421 lui lavora per rideterminare una situazione di guerra anche a Sparta c'è chi non ha gradito la pace e non di meno questa pace regge per un certo numero di anni Atene invece su suggerimento di Alcibiade attacca Siracusa una grande armata parte contro la Sicilia ma un conflitto interno che è già un prodromo di guerra civile sostanzialmente e cioè la caccia alle streghe per alcuni reati sacrali oscuri che si sono determinati nella città proprio alla vigilia della partenza della grande armata nell'anno 415 la caccia alle streghe i processi la persecuzione decapitano la grande armata Alcibiade dovrebbe essere il capo di questa spedizione non riesce neanche a raggiungere Siracusa accusato in contumacia raggiunto da una nave che lo vuole riportare ad Atene per il processo fugge e passa al nemico passa con gli spartani seguiremo forse se avremo tempo la vicenda di quest'uomo inquieto e tuttavia fatale per Atene ma per ora invece seguiamo la vicenda militare la vicenda militare lungi dall'essere una marcia trionfale avevano sottovalutato la forza militare di Siracusa la vicenda militare diventa un lungo assedio un assedio che dura due anni che richiede nuove truppe nuova flotta Siracusa Siracusa a sua volta chiede a proprio sostegno l'intervento prima di Corinto e poi di Sparta e dunque i due le due grandi potenze che hanno stipulato quella pace del 21 si trovano a combattersi in un teatro di guerra che è lontano appunto in Sicilia la spedizione termina con un disastro sconfitta militare piena distruzione di questa grande flotta migliaia di morti e di prigionieri catastrofe la cui percezione in Atene giunge coi tempi consentiti dalle comunicazioni del tempo evidentemente e determina panico determina l'esplodere di una crisi politica la prima operazione che viene compiuta è la nomina di una magistratura straordinaria dieci probuli quei probuli che sono stati ricordati prima in un passo significativo che è stato letto magistratura straordinaria vuol dire che Atene ha un sistema politico cosiddetto democratico fondato sul dominio dell'assemblea e il governo di magistrature elettive come la strategia e magistrature scelte a sorte tutte le altre e invece con la nomina di dieci probuli magistrati straordinari con pieni poteri che debbono occuparsi della salvezza della città entra in un tunnel entra in una situazione di trasformazione costituzionale si affida a dieci personaggi di riconosciuta autorità ai quali sostanzialmente viene chiesto di mettere il bavaglio all'ordinamento vigente che si è rivelato nocivo causa di questo disastro militare uno di questi probuli è il padre di Teramene Agnone un altro è Sofocle il tragediografo che era già stato stratego insieme con Pericle al tempo della guerra contro Samo nel 441 noi abbiamo sette tragedie di Sofocle molti rimpiangono giustamente le tantissime altre che non abbiamo più e di lui abbiamo un'idea un po' oleografica che si ricava sostanzialmente da questo manipolo di tragedie che sono una piccola rappresentanza della grande opera sua ma ricostruire la figura di un personaggio come Sofocle o come altri che hanno dedicato all'attività letteraria le proprie energie non si può necessariamente partendo dalla loro opera quindi il Sofocle politico è altra cosa dal Sofocle tragediografo beninteso Aristotele in un passo della retorica ci ha conservato un segmento prezioso una piccola testimonianza molto preziosa e cioè le parole che Sofocle dovette dire quando fu sostanzialmente sottoposto ad un'inchiesta possiamo chiamarla anche processo fu chiamato in causa da uno degli artefici del colpo di Stato del 411 e si scusò dicendo che in fondo aveva agevolato anche lui il cambiamento in senso oligarchico perché in quel momento non c'era di meglio da fare insomma la magistratura straordinaria ai dieci probuli è l'anticamera del cambio di regime in senso oligarchico in un senso che va contro il principio base della democrazia ateniese secondo cui tutti i cittadini liberi di status di sesso maschile e in età militare sono cittadini pleno iure anche se non possidenti anche se nullatenenti questa è la caratteristica del sistema democratico non abbiamo cifre precisissime abbiamo soltanto un censimento fatto un secolo dopo quindi le nostre idee sui numeri sono difettose e non di meno dalle cifre militari possiamo ricavare che prima del moria di opliti durante le campagne militari i cittadini aventi diritto alla qualifica di cittadini pleno iure erano circa trentamila quindi un'assemblea immensa decisionale non andavano tutti e trentamila l'assemblea naturalmente anzi c'era un assenteismo molto forte in un passo di Tucidide si legge che se un'assemblea aveva cinquemila frequentanti era già molto affollata c'erano ovviamente delle cifre minime per dare validità alle assemblee però indubbiamente questa massa popolare che è fatta essenzialmente di nullatenenti ai quali è garantito un salario minimo per poter fare politica per poter partecipare alle decisioni sono decisivi costituiscono il nerbo il soggetto sociale della democrazia atenese gli oligarchi vogliono limitare questo vogliono ridurre la cittadinanza ritengono che il corpo civico debba essere limitato ai possidenti e dunque un numero limitato di cittadini deve aver diritto alla pienezza della cittadinanza e alla partecipazione all'assemblea decisionale l'obiettivo viene realizzato per l'appunto nel 411 allorché i probuli innescano un meccanismo che in breve porta a un cambio radicale di costituzione si abroga la bule dei 500 si limita il diritto a 5.000 persone soltanto e questo è un governo chiaramente diverso da quello democratico questo processo oligarchico aveva le sue remote radici nelle oscure vicende del 415 quando appunto la flotta partiva e qualcuno si era affrettato a colpire di notte la fantasia superstiziosa degli atenesi con la mutilazione delle erme questo simbolo per così dire della fede popolare atenese compiuto in maniera sistematica nottetempo per terrorizzare una delle regole delle oligarchie delle consorterie oligarchiche è compiere tutti insieme un reato per essere tutti corresponsabili in maniera che nessuno si possa tirare fuori caratteristico delle congiure evidentemente è molto probabile come ha scritto tantissimi anni fa un grande grecista francese di origine tedesca che si chiamava Henri Veil o Heinrich Veil secondo dei gusti è molto vero quello che gli scrisse che cioè l'unica spiegazione seria del mistero di questa mutilazione delle erme a fini terroristici è che fosse una prova generale degli oligarchi riuscita sostanzialmente perché ne andarono di mezzo una serie di personalità politiche a cominciare da Alcibiade che erano i punti di riferimento della democrazia atenese queste stesse persone riemergono ogni volta che l'oligarchia si fa avanti il Giovane Crizia che era poi un coetaneo più o meno di Alcibiade era uno dei partecipanti alle eterie società segrete e taireiai alle quali si addebita a ragion veduta quella operazione terroristica della mutilazione delle erme il padre di Crizia era un signore che si amava Callescro e fu uno dei principali esponenti dell'oligarchia dell'anno 411 Crizia lo ritroviamo nel 404 insomma sono sempre le stesse persone che tentano e ritentano cioè è una guerra civile strisciante potremmo dire quella che si manifesta in Atene a partire dalla scelta dissennata di Alcibiade approvata peraltro dall'Assemblea Popolare di riaprire il conflitto attaccando a Occidente gli incunaboli della sconfitta e del crollo del sistema democratico sono esattamente lì ovviamente da parte oligarchica si aspetta il momento per colpire e quello è il momento c'è uno scritto un opuscolo conservatosi tra le opere di Senofonte l'autore di quell'opera storica da cui abbiamo udito leggere l'atto d'accusa di Crizia c'è uno opuscolo tramandato tra le opere di Senofonte e che grandi studiosi come August Boeck all'inizio dell'Ottocento attribuirono con molta probabilità proprio a Crizia cosiddetta Costituzione degli Ateniesi sistema politico ateniesi un opuscolo violento polemico che descrive con raccapriccio l'ordinamento democratico in quanto fondato sul potere dei non possidenti cioè dice l'autore delle canaglie che sono moralmente deprecabili in quanto poveri in quanto popolo questo è il suo punto di vista e in questo scritto c'è un passo celebre che vi parafraso per fortuna Atene non è un'isola perché se fosse un'isola sarebbe impossibile aprire le porte al nemico e farlo entrare e colpire il sistema politico col tradimento per fortuna non è un'isola quindi possiamo sperare che arrivi il momento in cui si aprono le porte al nemico e si abbatte il sistema democratico un atteggiamento gioviale possiamo dire rispetto al sistema vigente e questo pensavano questi uomini avevano una sintonia profonda col modello spartano abbiamo sentito Crizia dire la costituzione di Sparta è perfetta perché era il loro modello un corpo civico ristretto a Sparta questo aveva una base anche razziale potremmo dire gli spartiati si consideravano una stirpe diversa dagli loti o dai perieci e quindi tra loro erano uguali era il regime degli uguali ma degli uguali all'interno di questa casta razzialmente selezionata e dominante e armata fino ai denti che per gli oligarchi atenesi rappresentava il buon governo l'eonomia lo sforzo che compiono gli oligarchi atenesi che consiste nel ridurre il corpo civico è modellato su Sparta questo stato d'animo di attesa del momento in cui poter colpire in cui poter tradire aprire le porte al nemico e cambiare regime trova attuazione per l'appunto nei due momenti di massima crisi che abbiamo cominciato ad illustrare il primo ha la sua incubazione nella sconfitta in Sicilia e nella nomina dei probuli culmina dopo una serie di assassini politici attentati misteriosi terrorismo diffuso e impunito nell'assemblea popolare che Tuscidide descrive nel libro ottavo che si suicida che annulla il sistema democratico attraverso una votazione assembleare il terrore serve a quello serve a intimidire la parte più sensibile più attiva più cosciente del corpo civico il soggetto sociale come dicevo prima della democrazia e attraverso l'opera delle eterie attraverso questo sistematico terrorismo consistente nel liquidare fisicamente i capi più in vista democratici impedendo che ci sia un processo che riguardi questi assassini che rimangono impuniti una terapia di questo genere fa sì che l'assemblea voti l'abrogazione dei due pilastri su cui si fonda il sistema democratico atenese che sono il mistos cioè il salario per le cariche per l'attività politica che consente anche ai non possidenti e ai nullatenenti di fare politica l'abrogazione del salario e l'abrogazione della clausola diciamo dei processi per illegalità quella che si chiama clausola di garanzia nelle costituzioni moderne anche nelle nostre costituzioni c'è la clausola di garanzia che consiste nel prevedere che mettere in discussione l'ordinamento vigente è di per sé un reato questo nella nostra costituzione si trova nelle norme transitorie finali ma si trova nella costituzione della Repubblica Federale si chiama clausola di garanzia ad Atene è la cosiddetta grafè paranomon cioè il procedimento per illegalità se un signore si alza e dice propongo di abrogare il sistema democratico vigente immediatamente viene perseguito per illegalità perché quella è una forma palese di contestazione dell'ordinamento è dunque illegale se io abrogo il procedimento per illegalità posso consentire che venga messa in discussione alla radice la struttura stessa della comunità statale questi due provvedimenti vengono votati in una celebre assemblea che Tucinide descrive in modo molto preciso molto accurato indicando sia chi materialmente fece la proposta e la fece passare e l'assemblea la votò lui dice addirittura che chi parlava chi osava parlare presentarsi alla tribuna per parlare veniva preventivamente richiesto di mostrare che cosa avrebbe detto quindi c'era una censura preventiva sulla parola questo è un passo molto interessante perché sta a significare che almeno un brogliaccio se non una stesura scritta dell'oratoria politica era abbastanza normale o comunque veniva richiesta in quell'occasione in queste condizioni Tucinide appunto ne dà dettagli molto precisi egli stesso simpatizza molto per questi oligarchi ne traccia un ritratto molto positivo ma rivela anche chi erano i veri occulti capi di questa congiura lo dice con l'aria e col proposito di rivelare storiograficamente qualcosa che gli altri non sanno infatti quando egli dice Pisandro fu colui che presentò la proposta la proposta che ho appena ricordato ma chi aveva elaborato l'intera trama da moltissimo tempo e da sempre puntava a questo risultato era antifonte e di lui di antifonte traccia un ritratto straordinariamente positivo quasi assimilabile a Socrate è stato notato dagli studiosi dai critici questo possibile accostamento e come fa a saperlo che il vero artefice occulto della trama era antifonte perché egli stesso partecipe degli arcana di questa congiura il che ha a che fare poi con la sua vicenda personale l'arresto della macchina statale democratica avviene in modo quasi immediato i probuli sono dieci cooptano altri ciascuno di loro altri tre per cui si crea un comitato di 40 persone queste 40 persone cooptano ciascuna di loro altre dieci e si costituisce un corpo decisionale di 400 persone i quali si costituiscono in senato in boulet e sostituiscono la boulet democratica cioè quella che veniva scelta a sorte i boulet uti erano 500 dai tempi di clistene e Tucidide descrive la scena di come questi 400 hanno sfrattato i boulet uti in carica presentandosi con delle guardie del corpo che avevano dei pugnali nascosti in maniera da passare alle vie di fatto nel caso i boulet resistessero e gli regalano anche il resto del salario che gli spettava per i restanti mesi dell'anno c'è anche un elemento sprezzante in questo i boulet della boulet dei 500 cedono il passo e nel boulet uterion si insediano i 400 ecco perché si chiama il regime dei 400 questi avrebbero dovuto si erano impegnati a far questo stendere una lista di 5.000 cittadini cioè i 5.000 cittadini gli aventi diritto alla cittadinanza alla luce del concetto censitario di essere in grado di armarsi a proprie spese il famoso la formula Opla pare come noi questa lista non fu mai tirata fuori in realtà e quindi si determinò una dittatura dei 400 all'interno di questo gruppo di potere la crisi scoppia molto presto ma per ragioni varie la principale delle quali è che essi si erano illusi di avere immediatamente un riscontro positivo da parte spartana che non c'è sparta intende vincere la guerra gli interessa poco che ci sia un governo amico vuole fiaccare l'impero atenese il vero problema è il predominio nella stessa area geopolitica che non prevede che due imperi convivano coesistano quindi sparta continua e questo determina una enorme delusione in una parte almeno del gruppo dei 400 una divisione al loro interno e soprattutto determina un imprevisto che cioè la flotta la flotta atenese che è fatta di potremmo dire marinai democratici la base sociale della democrazia lo dice quel signore dell'opuscolo anonimo che ho prima ricordato è fatta da tutti coloro che gravitano intorno alle navi perché le navi sono lo strumento dell'impero e l'impero è il principale veicolo di prosperità per il popolo quindi il popolo è direttamente interessato all'impero gli arsenali quelli che lavorano a fabbricare le navi i marinai che spingono le navi tutti costoro sono il soggetto sociale principale della democrazia la flotta è a Samo è la grande isola di Samo assiste a un ammutinamento potremmo dire per cui la flotta si costituisce in contropotere si nomina i suoi strateghi quindi si creano due governi quello oligarchico ad Atene con i 400 che speravano nella pace e non ottengono la pace e la flotta che si costituisce in antiparlamento potremmo dire come si disse al tempo dell'Aventino in Italia nel 1924 l'antiparlamento senza la flotta il potere dei 400 è modesto sono privi del principale strumento militare e non hanno l'amicizia spartana a questo punto la divisione al loro interno diventa una spaccatura palese Antifonte Frinico vanno a Sparta per implorare che si arrivi comunque a un accordo e tornano a mani vuote Teramene capisce che la partita è persa e capeggia la controffensiva contro i suoi compagni di congiura è il primo tradimento di cui Crizia parlava in quel discorso oltretutto in ottemperanza potremmo dire a quello che diceva l'anonimo ateniese per fortuna Atene non è un'isola quindi si possono aprire le porte porte metaforiche che possono essere anche un approdo marittimo non necessariamente le porte della città e infatti gli oligarchi filospartani che comunque puntano a raggiungere questa pace concordata col nemico preparano uno sbarco a sorpresa degli spartani al Pireo e fanno costruire un molo dove gli spartani dovrebbero sbarcare di notte contro questa costruzione insorgono gli opliti medesimi che sono spettatori di questa operazione e quel tale che viene nominato ma il suo nome lo avrete dimenticato giustamente Aristocrate che era uno di loro uno dei 400 capeggia la distruzione del muro del molo del molo che si preparava per far sbarcare gli spartani la scena movimentatissima di questo conflitto civile di questo scontro armato tra sostenitori e avversari della apertura a sparta viene raccontato da Tucidide con dettagli minuziosissimi Teramene si mette a capo di coloro che distruggono il molo dopodiché i 400 vengono deposti e per un certo tempo per alcuni mesi Teramene finalmente libero di dirigere la cosa pubblica con i suoi fedelissimi Aristocrate ed altri lancia la lista dei 5.000 quindi per qualche settimana anche più per qualche mese vige ad Atene un curioso sistema politico che non è né la democrazia piena né l'oligarchia estremistica dei 400 il cosiddetto regime dei 5.000 Tucidide ha molta simpatia per questo governo dice che il miglior governo che Atene abbia mai visto del che possiamo forse dubitare in realtà è un equilibrio instabile per quanto Teramene si affretti a far processare i suoi amici farli condannare a morte antifonte il cervello della congiura viene processato noi abbiamo per fortuna in appendice alle cosiddette vite dei dieci oratori un opuscolo tramandato con le opere di Plutarco il decreto di condanna quindi noi sappiamo con precisione come avvenne questo processo con quali imputazioni con quale esito Teramene accusatore imputazione è il tradimento non è l'abbattimento del sistema democratico è il tradimento siete andati a Sparta per stipulare di nascosto un accordo a danno della città su navi spartane avete raggiunto clandestinamente Sparta su navi spartane quindi sulle navi del nemico e con questa imputazione antifonte viene condannato a morte beve la cicuta e muore e Tucidide lo rappresenta come un grande eroe che non è fuggito ha affrontato il processo si è difeso ed è morto quindi un uomo coraggioso un uomo che si assume le responsabilità di quello che ha fatto ma questa situazione in bilico dura fino al momento in cui la flotta si riappropria della città quando i capi della flotta rientrano si restaura la democrazia radicale quella tradizionale di Atene e la grande scena è il giuramento di fedeltà alla democrazia che gli ateniesi fanno solennemente alle grandi Dionisie dell'anno 409 quando va in scena il filottete di Sofocle o meglio la trilogia in cui è compreso il filottete di fronte all'altare di Dioniso quindi nel contesto sacrale più solenne ed è un giuramento ferocissimo ucciderò con le mie mani chiunque attenti alla democrazia e in questo clima Terramene deve fare come dicono adesso i politici non uno ma due tre passi indietro la sua abilità però gli permette di rimanere comunque nel giro dei politici che contano con il proposito di riprendere in mano le redini quindi la grande delusione per lui è che la democrazia restaurata contempli il rientro di Alcibiade lo abbiamo lasciato che è fuggito a Sparta ha fatto tutto il male possibile alla sua città per vendicarsi di essere stato esiliato torna da vincitore perché stando accanto alla flotta ha vinto una serie di battaglie navali negli stretti dei Dardanelli colpendo la neonata flotta spartana quindi Alcibiade torna da vincitore e fuggito all'inizio della spedizione tremenda e fallimentare contro Siracusa rientra come restauratore della forza militare di Atene questa è una sorpresa per Teramene perché Alcibiade è ingombrante e uno dei problemi di Teramene è come liquidare Alcibiade una seconda volta questo accade in due tempi sostanzialmente ma la vera occasione non è tanto l'incidente militarmente trascurabile della cosiddetta battaglia di Notion una battaglia in cui Alcibiade ha lasciato un suo luogotenente il quale è stato attaccato a sorpresa dagli spartani e quindi ha perso un bel po' di navi questo viene ascritto a responsabilità da Alcibiade gli vengono tolti i pieni poteri che gli erano stati dati al rientro Alcibiade sdegnato si ritira nei suoi castelli negli stretti e però il vero colpo che Terame ne assesta al clan politico di Alcibiade è il processo ai generali vincitori della terribile sanguinosissima battaglia navale delle isole Arginuse quella battaglia vicino all'isola di Lesbo di cui si è prima detto una battaglia forse la più grande battaglia navale della storia greca in cui Atene ha avuto grandi perdite però Sparta ne ha avute di molto più gravi Atene è vincitrice quasi per intero il collegio degli strateghi si è impegnato in questa battaglia sono dieci gli strateghi due hanno potuto non partecipare alla battaglia per una certa vicenda che qui non è utile raccontare ma l'imprevisto è che il lupifragio successivo ha travolto i naufraghi molti ateniesi che si potevano salvare non sono stati salvati i generali gli strateghi hanno dato ordine ai trierarchi di salvarli uno dei trierarchi è Teramene che non provvede a salvare i naufraghi e accusa gli strateghi di essere i responsabili della loro morte di qui il processo contro gli strateghi uno dei quali è niente meno che Trasillo cioè colui che aveva riportato la flotta da Samo ad Atene restaurando la democrazia nel 409 processo monstro fondato su una illegalità palese cioè il giudizio collettivo e non individuale coloro che difendono gli strateghi dicono hanno diritto alla difesa individuale devono essere processati ciascuno per sé Teramene riesce ad aizzare l'assemblea popolare profittando del dolore enorme determinato dalle perdite umane e soprattutto dal mancato salvataggio dei naufraghi che forse si potevano salvare e ottiene la condanna in blocco e chi sono questi strateghi sono amici parenti congiunti di Alcibiade a cominciare dal figlio di Perigle Perigle il giovane cugino di Alcibiade col processo degli strateghi viene decapitata l'eteria potremmo dire il clan di Alcibiade e Teramene torna ad avere in pugno la situazione quello che avviene negli anni immediatamente successivi siamo ormai al 406 l'anno dopo il 405 è l'anno cruciale potremmo dire si apre si apre insomma alle grandi Dionisie Aristofane mette in scena le rane commedia notissima commedia si usa dire un po' a torto un po' a ragione letteraria la contesa tra i due grandi tragici per il trono nell'Ade il dio del teatro che vuole riportare sulla terra Euripide ma nella contesa che si svolge nell'Ade l'ultima prova che Aristofane mette in scena è la domanda cosa fare con Alcibiade deve tornare o no ed è notevole che Eschilo cui vanno le simpatie di Aristofane in questo conflitto letterario che si svolge nell'Ade risponde positivamente con una formula abbastanza sibillina chiama Alcibiade il cucciolo del leone bisogna assuefarsi al cucciolo del leone perché il cucciolo del leone direi per una ragione ovvia che quando Pericle nacque secondo una leggenda consolidata e credo messa in circolazione per creare intorno a lui un'immagine di predestinato la madre sognò di partorire un leone il nipote di Pericle Alcibiade è chiarissimo questo e perciò Eschilo risponde alla domanda dobbiamo far rientrare Alcibiade con la frase bisogna assuefarsi al cucciolo del leone invece Euripide risponde no come dire questa commedia che fu replicata per il grande successo che ebbe secondo una notizia antica suggerisce il richiamo di Alcibiade che come ho detto si tiene nei suoi castelli dopo che gli è stato tolto il potere i pieni poteri ma Alcibiade non viene richiamato non viene richiamato perché non lo vogliono né i capi radicali Cleofonte né Teramene e pochi mesi dopo siamo ormai a settembre c'è la battaglia Diego Spotami che non è una vera e propria battaglia è il tradimento della flotta da parte di alcuni generali che consentono Alisandro disinvolto capo spartano che è stato ricordato in quei brani che abbiamo prima letto di attaccare a mani basse come si vuol dire e distruggere l'ultima flotta dopodiché Atene è senza flotta e comincia l'assedio l'assedio dura fino all'aprile del 404 è un assedio tremendo l'Atene viene presa per fame e non di meno resiste cosa chiedono gli spartani perché ovviamente in quelle condizioni si comincia a chiedere la possibilità di una pace di compromesso di una dignitosa capitolazione chiedono la parziale distruzione delle mura perché le mura erano lo strumento massimo di difesa e di inviolabilità di Atene come ho ricordato al principio le aveva fatte costruire Temistocle in maniera rapidissima nel 478 di nascosto dagli spartani che non gradivano che Atene diventasse una fortezza e ora si chiede la distruzione parziale delle mura soprattutto infrangere questa struttura per cui città e porto sono un'unica fortezza questo è il punto su cui la richiesta insiste e l'Assemblea lo respinge i capi democratici continuano a respingere a far respingere in Assemblea questa richiesta perché distruggere le mura sia pure in parte significa togliere ad Atene ogni speranza di restare una potenza militare e a questo punto entra in scena Teramene ancora una volta e Senofonte racconta in pagine molto sintetiche in quel caso ma molto efficaci quello che l'Isia nel brano che è stato letto all'inizio dice con maggiori dettagli missioni diplomatiche inviate a Sparta falliscono su questo punto tornano indietro gli spartani le respingono Teramene si offre come risolutore dichiara che lui potrà portare all'accordo di pace con Sparta intanto i morti per fame aumentano la città è al disastro manca il grano e non rivela però qual è lo strumento con cui otterrà la pace infatti avete sentito e forse ricordate dopo tante parole che sono state dette che disse di avere la possibilità il segreto per ottenere la pace ma non rivelò quale fosse e va in missione va in missione a Sparta l'Isia non lo dice in quella pagina pur così violenta pur così aggressiva evidentemente perché non gli risultava ma lo dice Senofonte va a Sparta e resta per dei mesi aspettando che Atene sia alla disperazione quando è sicuro che Atene non può più resistere rientra e dice la richiesta è la distruzione totale delle mura anche delle mura che racchiudono il Pireo che inizialmente non erano state richieste e secondo l'Isia e questo è un punto molto controverso accanto alla richiesta riguardante le mura c'è la richiesta del cambio di regime politico quella deve essere in realtà una brachilogia effettivamente si approdò a questo ma non è difficile pensare che Teramene sia tornato e abbia detto e ci chiedono anche di cambiare il regime politico ci chiedono la distruzione totale delle mura la cessione della flotta e l'accordo che è una capitolazione totale avviene su questa base a quel punto l'Isandro l'Isandro entra nel porto del Pireo con tutta la sua flotta e testimonianze convergenti dicono che assiste con i suoi armati all'Assemblea Popolare che si raduna per decidere cosa fare dopo aver accettato la capitolazione Assemblea per i Politeias sull'ordinamento politico questo ci fa capire che in sostanza l'Isandro ha fatto pressione retroscenica perché si realizzasse questo cambiamento anche se non era incluso nelle clausole della pace e Teramene si è fatto interpretare dominando quell'Assemblea e ricattandola perché ci sono gli armati spartani intorno dell'esigenza di abbattere ancora una volta il sistema il regime democratico lì si racconta e dobbiamo credergli comunque non possiamo verificare l'informazione che una parte non piccola dei presenti si allontana dall'Assemblea per non essere complice di questa decisione quelli che restano votano e votano che cosa? Ancora una volta la nomina di una magistratura straordinaria i famosi 30 detti poi 30 tiranni 30 è un numero curioso perché le tribù atenesi sono 10 e quindi gli strateghi sono 10 è tutta una aritmetica su 10 e multipli di 10 invece i 30 vogliono anche infrangere questa sorta di geometria politica connessa alla democrazia l'elenco dei 30 noi lo abbiamo perché Senofonte che è stato a loro servizio è stato cavaliere poi forse anche il parco sotto i 30 da notizie cronachistiche addirittura minuziose sulla vicenda che rapidamente degenerò in guerra civile e dall'elenco dei 30 uno dei quali naturalmente è Teramene che è l'artefice e anche qui il grande Teramene abilissimo ha una sorpresa una delle clausole della pace è il rientro degli esuli cioè di coloro che erano stati cacciati per motivi politici in gran parte le persone compromesse col colpo di stato di sette anni prima tra cui Crizia il figlio di Callescro Crizia rientra e immediatamente si determina una tensione tra i due Teramene ritiene di essere il grande artefice colui che mena le danze potremmo dire e Crizia intende cappeggiare il governo dei 30 su che cosa avviene l'attrito l'attrito avviene dopo un'iniziale collaborazione sulla decisione ancora una volta tipica delle oligarchie di commettere un reato collettivo che renda tutti complici ognuno dei 30 deve ammazzare un meteco ricco i meteci ad Atene erano migliaia e alcuni di loro erano molto ricchi il padre di Lisia era appunto il cefalo un ricchissimo siciliano che viveva ad Atene era amico di Pericle in casa sua si svolge il dialogo platonico della Repubblica e Terramene non ci sta perché ritiene che questa sia una forma di compromissione grave lungimirante diversamente da Crizia lui pensa che prima o poi questo regime cadrà a questo punto un domani sarà chiesto conto di quello che si è fatto e avere macchiate le mani di questo sangue gli sembra una follia non per bontà d'animo ma per sapiente calcolo politico per maggiore lungimiranza che non gli altri e solleva anche una questione il corpo civico secondo i 30 deve essere ridotto a 3.000 persone neanche 5.000 quindi ancora più piccolo perché Crizia vorrebbe fare un'altra Sparta in Attica Sparta è poco popolata quindi più se ne vanno da Atene meglio è avremo una città agricola simile a Sparta arcaica con un corpo civico ristretto e tantissimi scappano scappano o vanno in megaride per lo più cioè fuori del confine o cominciano a radunarsi al Pireo era Tostene che è uno dei 30 è il responsabile della morte del fratello di Lissia Cefalo era già morto e nella prima parte di quel discorso di cui abbiamo letto il brano contro Teramene al quale per così dire si richiamava Eratostene per salvarsi nella prima parte di quel discorso viene descritta la scena drammatica dell'uccisione di Eratostene perdone dell'uccisione di Polemarco fratello di Lissia vittima di Eratostene come dire Eratostene o di suo pugno o cappeggiando un manipolo di armati è il responsabile di questo assassino in casa di Lissia quando cade il regime oligarchico la pacificazione che si determina che se una fonte racconta prevede l'amnistia ma noi sappiamo come sia complicato fare un'amnistia dopo una guerra civile l'amnistia il testo dell'amnistia si trova nell'opuscolo di Aristotele sulla costituzione di Atene un testo fondamentale c'è una clausola dell'amnistia secondo cui non si devono perseguire i sostenitori del passato regime tranne che se si siano macchiati di reati di sangue o hanno ucciso o ferito Eratostene cade nella categoria dei reati di sangue è per questo che Lissia lo porta in tribunale lo porta in tribunale fra l'altro in modo eccezionale perché lui non è un ateniese quindi non avrebbe diritto e invece certamente quella è un'accusa che lui ha sviluppato in prima persona come è finito il regime dei 30 e soprattutto come è cominciato qui le nostre informazioni naturalmente dipendono più che mai dalle fonti disponibili è curioso che o forse è inevitabile per i periodi di guerre civili nel mondo antico mi riferisco anche alla Repubblica Romana le fonti abbondano c'è più documentazione per dire per Roma abbiamo quasi mille lettere di Cicerone che in larghissima parte sono relative agli anni dal suo consolato alla morte di Cesare insomma una fonte straordinaria nel caso della guerra civile ateniese che come ho detto è di lunga durata comincia ben prima del 404 noi abbiamo Senofonte che è un protagonista abbiamo Lisia abbiamo Aristotele Costituzione di Atene che non è un contemporaneo che vive 70 anni più tardi ma che usa ottime fonti abbiamo Diodoro di Sicilia che usa sicuramente Eforo che a sua volta aveva frequentato Isocrate che era un contemporaneo e vittima anche lui la sua famiglia era stata depredata dai 30 quindi c'è una ricchezza di fonti e non di meno alcuni punti rimangono per noi problematici per esempio quando leggiamo in Senofonte e Leniche che all'inizio il governo era gradito la gente comune si compiaceva del fatto che i 30 mettessero a morte i capi radicali della democrazia i demagoghi si diceva allora parola che però non aveva l'implicazione negativa che noi diamo a questo termine gli dobbiamo credere o ci dobbiamo domandare se egli stesso essendo stato partecipe di quell'esperienza non abbia voluto presentare le cose in modo tale da far ritenere che fosse all'inizio inevitabile quel cambiamento e che poi per colpa del cattivissimo Crizia degenerò noi sappiamo che quando ci sono regimi politici imbarazzanti si dice che all'inizio erano però stati salutari quasi inevitabili perché servirono a dare la pace sociale io non so se si studia a scuola la storia del novecento forse si dovrebbe essendo noi entrati nel secolo seguente ma una delle leggende riguardanti l'andata al potere del fascismo fu che era necessario perché in Italia c'era la guerra civile c'era effettivamente ma il rimedio non era il fascismo non potremmo dire nel caso dei trenta è un brano famoso quello in cui Sano Fonte dice vedevano mettere a morte i peggiori sicofanti e demagoghi e anche il popolo gioiva è un brano celebre se ne è ricordato Sallustio Sallustio spero che sia ancora nel canone delle letture scolastiche ha scritto un libro faziosissimo un libro stupendo ma palesemente di parte sulla vicenda della congiura di Catilina essenzialmente per scagionare Cesare dalla fondata accusa di essere stato un fiancheggiatore di Catilina e infatti quel bellissimo opuscolo di Catilina e congiunazione culmina nei due discorsi contrapposti di Cesare e Catone intorno alla opportunità o meno di eseguire immediatamente la condanna capitale a danno dei catilinari arrestati quelli presi e catturati mentre Catilina è ormai fuggito in Etruria e prepara anche lui la sua guerra civile la sua battaglia di Pistoia e Cesare parla e sostiene una tesi apparentemente paradossale che cioè la pena di morte è leggera perché la morte è l'annullamento l'anima non è immortale quindi che male facciamo a una persona togliendogli la vita gli togliamo i dolori le sofferenze e la detenzione la vera pena e cerca di salvare la vita insomma questi signori e viene contrastato un celebre discorso di Catone che peraltro aveva appena 30 anni avere un giovanotto Catone il futuro suicida Cesare era pontefice massimo in quel momento quindi insomma aveva un'autorità religiosa era un pontefice massimo che snocciolava filosofia epicurea però a Roma questo era possibile e Catone ribalta le decisioni del Senato che sta quasi pencolando per Cesare e i catinenari vengono ammazzati Cicerone assiste all'esecuzione poi esce e dice vixerunt sono morti ma nel suo discorso perché vi ho raccontato questa favola assolutamente divergente perché il discorso di Cesare in larga parte corrispondente noi pensiamo a ciò che lui veramente disse lo si ricava dalle risposte di Cicerone nella quarta catilinaria quindi insomma una parte almeno di quello che Sallustio gli fa dire l'ha detto però c'è una parte in cui Sallustio fa dire a Cesare una rievocazione della guerra civile di Ateniese ci si interroga perché la cedemoni devictis Ateniensibus trigintaviros imposuere quirem publicam eorum tractarent no? gli spartani una volta vinti sconfitti gli Ateniesi imposero il governo dei trenta con il compito di riordinare lo Stato quirem publicam eorum tractarent e poi si aggiunge All'inizio loro cominciarono a far liquidare fisicamente senza processo chiunque fosse pessimo e odiato da tutti i famosi demagoghi sicofanti e il popolo era contento ea populus letari et merito diceva che a ragion veduta questo accadeva questa è una traduzione letterale delle parole di Senofonte quando parla dei trenta che all'inizio erano stati molto apprezzati ora Cesare ha letto sicuramente gli storici greci quindi può benissimo essere anche questa parola di Cesare o invece un gioco letterario di Sallustio è probabilmente un gioco letterario di Sallustio perché nel seguito Cesare cosa dice ma già al tempo di Silla quando Silla ha preso assunto la dittatura e ha fatto condannare senza processo e fatto uccidere da Masippo altri capi popolari il popolo era contento dopodiché cominciarono le proscrizioni e allora chiunque volesse colpire un nemico personale lo faceva mettere nella lista di proscrizione e si impadroniva dei suoi beni e poi dice Cesare naturalmente io non penso che Marco Tullio possa fare una cosa del genere illustre bravissimo console in carica è curioso tutto questo in realtà c'è una spiegazione Cesar Lussio scrive dopo che ha visto le proscrizioni triunvirali quindi usa Cesare contro i triunviri che stanno facendo quello che ha fatto Silla al suo tempo con l'inganno che all'inizio era cosa apprezzata buona e giusta e che invece poi ha degenerato insomma questa teoria che all'inizio andava bene si è consolidata è entrata nella stereografia antica e però anche moderna perché tutto sommato noi moderni più che riraccontare quello che leggiamo nelle fonti difficile che riusciamo a lavorare di fantasia in contrasto con le fonti le possiamo criticare possiamo dire non ci convince parla così perché ha un suo problema e il problema di Sano Fonte è esattamente quello di Eratostene cioè di dire che mi sono imbarcato in questa avventura perché all'inizio era benemerita cosa in particolare accade mentre la situazione degenera Terramene prende le distanze viene portato preso in trappola sostanzialmente davanti alla boulet dei 30 succede che un manipolo di uomini intorno a Trasibulo che era uno dei due capi della flotta nel 411 quindi uno dei restauratori della democrazia allora e che però era stato strumento di Terramene durante il processo degli strateghi era stato lui a dire sì è vero non è colpa dei trierarchi ma dei generali degli strateghi insomma Trasibulo ha avuto questa ambigua posizione ebbene intorno a lui si radunano degli uomini 70 persone proprio un manipolo che cominciano una guerriglia cominciano ad attaccare la cavalleria dei 30 a sorpresa mentre sono nelle campagne dell'attica attentati di tipo appunto guerrigliero man mano però intorno a loro si addensa non poco del popolo che è fuggito dinanzi al terrore dei 30 e incomincia una guerra guerreggiata sul suolo dell'attica a munichia che è uno dei porti degli approdi dell'attica si svolge la battaglia nella quale Crizia muore e Carmi del suo cugino anche tutti e due erano parenti di Platone che era molto amico dei 30 con la morte di Crizia i 30 perdono il potere vengono delegittimati e subentra un collegio di 10 questi 10 sono sempre oligarchi intendono proseguire nella costituzione oligarchica e si mettono accanto due i parchi uno dei quali quasi certamente Sanofonte stesso cioè Sanofonte ha vissuto l'avventura fino all'ultimo con l'argomento che non erano più i 30 ma i 10 Trasibulo non ha vinto sul campo di battaglia ha vinto quella battaglia però non è riuscito a scalzare il governo oligarchico è Sparta che ha imposto la pacificazione perché a Sparta non è gradito che Lisandro diventasse una sorta di lord protettore della potenza vincitrice quindi per colpire Lisandro si abbatte il governo oligarchico ad Atene e si impone la pacificazione e la restaurazione democratica che però ha una sua leggenda la leggenda è che gli eroici democratici hanno sconfitto sul campo gli oligarchi hanno ripristinato la democrazia non è così e tanto non è così che Sparta impone che gli avanzi del governo oligarchico abbiano diritto ad una propria repubblica nella città di Eleusi dove si raccolgono i resti non piccolissimi di quel regime è evidente che è un momento nel quale Atene non può durare divisa in due repubbliche contrapposte quella della restaurazione democratica e quella di Eleusi e avviene allora un'operazione che soltanto se no fonte racconta e nessun'altra fonte ne parla si sparge la notizia si diffonde la notizia che ad Eleusi stanno tramando per riconquistare il potere ad Atene dopodiché i bravi democratici si armano convocano i capi di Eleusi a colloquio li massacrano tutti quanti a tradimento dopodiché replicano l'amnistia un'amnistia fatta anche con alcuni già morti diciamo così e Senofonte che racconta questo mentre Aristotele non lo dice evita di dirlo però ci fornisce un dato prezioso di cronologia per cui possiamo datare questo fatto al 401 quindi ben due anni e mezzo dopo la pacificazione la prima Senofonte commenta dicendo e ora il popolo presta fede ai giuramenti che una frase che ha lasciato dietro di sé una scia infinita di interpretazioni quando l'ha scritta perché l'ha scritta l'ha scritta amaramente vuol dire la prima amnistia è stata tradita da coloro stessi che l'avevano firmata e solo dopo il massacro di Eleusi che il demo presta mantiene fede agli orcoi ai giuramenti dopodiché però succede e qui ci ci interrompiamo perché vi ho tediato oltremisura che entra in scena un fenomeno come dire letterario importante molto di quello che noi sappiamo lo dobbiamo a Senofonte l'ho appena detto è un cronista nel senso pieno della parola il suo è un diario è un diario della guerra civile lui racconta tutto quello che riguarda la cavalleria quando strigliavano i cavalli la mattina quindi è chiaro che sta parlando proprio di esperienza sua diretta e chissà quanto non dice perché non era sul posto in quel momento quindi un racconto prendere o lasciare per noi va benissimo perché non abbiamo altro l'altro suo diario è la Nabasi ma la Nabasi cioè il racconto della sua partecipazione alla spedizione in Asia incominciata nel 401 e finita nel 399 è un pezzo di un'unica narrazione diaristica che va ricomposta per avere un'idea concreta del suo lascito dobbiamo considerare il diario della guerra civile la Nabasi e il seguito dal terzo libro in avanti delle elleniche come un unico diario di quest'uomo e la domanda è perché se n'è andato e perché si è imbarcato nell'impresa asiatica lui dice che ha chiesto consiglio a Socrate ancora vivo poi è stato ucciso nel 399 dalla democrazia restaurata perché cattivo maestro di Crizia e di Alcibiade e Socrate gli ha detto consulta l'oracolo di Delfi per sapere se devi partire o no lui l'ha consultato e riferisce a Socrate ho consultato l'oracolo e mi ha detto a quali divinità devo fare sacrifici per partire tranquillo e Socrate dice ma io ti avevo detto un'altra cosa non ti avevo detto come partire ma se partire il problema è che lui aveva deciso di partire perché ad Atene dopo il massacro di Eleusi non c'era più posto per lui grazie grazie grazie